Ciao ragazzi, sono Sonic! Sonic come Siga! Siga Mega Drive! Guardate che novità! Non ce n'è più per nessuno! Pattina e vinci! Colpisci i tuoi avversari e scivola con DJ Boy nelle avventure più appassionanti! Vai veloce! Prendi la mira e cerca di trionfare! Con Burning Force sarai un vero lottatore dello spazio! California Games! Che goduria! È sempre vacanza in California ma, attento, devi anche vincere! Sprona il nemico e distruggilo finché sei in te! After Burner! Compi le tue evoluzioni volando nel cielo delle emozioni! Super Thunder Blade! Sensazioni uniche! Riflessi sollecitati fino al limite! Divertimento massimo! Strider! Comincia bene! E lungo il percorso duelli a non finire! Questi sono i premi! Game Gear, Mega Drive, Master System Plus, l'incredibile Mega CD, TV Tuner, Canta 2 Music System e un'infinità di cassette! Ma come? Questo è il meccanismo! Acquista da ottobre a novembre Game Gear o TV Tuner o Mega Drive oppure tre cassette dei tuoi giochi preferiti! Hai subito in regalo Sonic Beige! Ce l'ho! Sonic Beige è l'incredibile spilla luminosa che si può accendere da sola mentre guardi la TV! Ma quando? Durante le nostre sponsorizzazioni e i nostri fantastici spot! Capito Sonic Beige? Se suona, vinci! Vigile! Oggi ho però! Sono giochi preziosi! Tocca a te! Sei un professionista del baseball americano! Batti, lancia, rilancia! Con Super League migliora il tuo stile! Partecipa all'azione! Sfrutta la tua velocità e non farti intimorire! Con Wrestle War sei un grande campione! Che forza Mega Drive! Vata al Rewind! Le prove di destrezza che ci fanno impazzire! Ma che soddisfazione vincere Buck Rogers! Un passo nel futuro! Un'avventura tutta per te! Controlla i tuoi limiti! Potresti essere un genio! Block Out! Una grafica spettacolare! Lotta con le tue possibilità! Beat Fighter! Potresti essere un campione! Avete Sonic Beige? Mettete le posizioni TV! Se siete vincenti, la spilla si accenderà e suonerà da sola! Occio a suono magico! Anche oreccio! Con Sonic Beige si vince! Occio però! Con i giochi preziosi! Hard Driving! Non te lo saresti mai aspettato! La strada è tutta tua! Ma attento! Ci sono 360 gradi di difficoltà! Dai fondo alla tua capacità creativa! Clacs! Ma non basta! Devi essere il più veloce! Carica le tue munizioni! Non perdere tempo! Decolla con F22! Non farti spaventare! Tu sei implacabile! Devi cancellare ogni paura! E il successo non ti mancherà! Un nuovo torneo ti aspetta! King Bounty! E lo spettacolo continua! Sei nato per l'avventura? The Furry Tale! Un gioco storico! Dark Castle! Scegli il percorso che ti piace! Devi arrivare fino in fondo! Ehi Sonic! Occio però! Sono giocchi preziosi! Attenzione! Siete pronti? È il momento Sonic Beige! Avete Sonic Beige? Mettetela in posizione TV! Se siete vincenti, la spilla si accenderà e suonerà da sola! Occio a suono magico! Anche oreccio! Il tuo Sonic Beige si è acceso? Telefona allo 039 2026 071 Se non si è acceso, invia ugualmente la cartolina del concorso Con Sonic Beige si vince! Occio però con i giochi preziosi!